Al comunale di Spinete per la sedicesima giornata del campionato di eccellenza si affrontano lo Spinete e la capolista Vasto Girardi in una sfida ricca di gol, diretta dal signor Stefano Gicchini della sezione di Termoli. Prima dell'inizio le due squadre dedicano un saluto allo scomparso Danilo Sabatino con questo bellissimo striscione. Ma andiamo alla cronaca dei 90 minuti di gioco. La prima occasione di marca Vasto Girardi con la doppia conclusione di Calcagni, ma Borrega la mette in corner. A quattordicesimo è il turno di Sisti con questa conclusione che però non inquadra lo specchio della porta e manda al lato del palo. Ma al venticinquesimo si sblocca il risultato, punizione di Di Lullo, colpisce Calcagni e pare a Borrega e sulla ribattuta insacca così Ruggeri per l'1-0. Raddoppia il Vasto Girardi al ventinovesimo, Calcagni offre per Sisti che trova in mezzo Cato, che mette in fondo al sacco per il 2-0 giallo-blu. La reazione dello Spinete arriva al 32esimo con la bomba di Tedeschi, ma Maggi disinnesca così. Ancora il giallo-verdi al 36esimo, stavolta Gondragone che prova la conclusione, ma anche quest'ultima è un nulla di fatto. Termina così la prima frazione di gioco e con le Maggi di Giancarlo Bustelli andiamo alla ripresa, che si apre subito con il terzo gol del Vasto Girardi, punizione di Ruggeri e palla in fondo al sacco, con doppietta personale del difensore Alto Molisano. Lo Spinete prova a riaprirla e lo fa al 18esimo con Calderoni che con un bel tiro trova il gol del 3-1. Poi la partita si gioca prevalentemente al centrocampo, fino al 46esimo quando lo Spinete si addormenta e da guanno serve Petrone che sigla il 4-1 e nemmeno un minuto dopo sempre Petrone fa anche il 5-1, complice la dormita generale dello Spinete. Termina così la gara, Vasto Girardi che vola a 44 punti e continua la sua lotta per il campionato, Spinete che non ha cominciato l'anno nuovo nel migliore dei modi ma c'è ancora tempo per salvarsi.